E' MiniWitch! Ti sono parlato cazzo! No! Qui sono 5 erabriamo Witch! Vi sono fazzi! Come a Gio! Come a... Dovete sempre... E voglio un po' di pezzi! E' l'Ucrania! La benzina! E' un ca' che motiva questa scelta! Blu 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 blu! A Manneggiala p***o! C'eo amici di c***o! LaSi CoCa Coca! A Eccolo adesso ne eravamo la più tardi, ciao! Perché ne vado? Solo per voi grandissimi sfegatati fan di Emily Weitz che si seguite in tutto il mondo Tutto il mondo, tutto il mondo, tutto il mondo E' convinto di parlare alla Rai Io non dico niente Grazie a tutti